Ingombranti, materiale di risulta, scarti di lavorazione, pneumatici e il trisse scenario che in molti quartieri di Napoli è possibile vedere agli angoli di strada. Da Agnano a Ponticelli la città risulta sporca e nel degrado. Ecco come appariva stamane fuori grotta. Siamo nell'area mercatale Cirlone dove stamattina dopo l'ennesimo massiccio scarico abusivo i cittadini hanno ritrovato sotto casa fusti di vernice, sanitari, materiale di scarto di lavoro di edilizia e addirittura una vespa. Sesse scene ad Agnano dove i cumuli sono visibili nella zona interna di via Pisciarelli. A Ponticelli, nonostante le segnalazioni al comune all'Asia, resiste ancora la mega discarica a due passi dal pala Vesuvio e dall'istituto tecnico Marie Curie. Amianto, scarti di opifici e carrozzeria, spazzature ingombranti occupano la sede stradale oramai allagata. Una bomba ecologica senza precedente che i dipendenti a Asia non provano a disinnescare annunciando addirittura per il prossimo 18 ottobre uno sciopero. Per denunciare le difficoltà degli autisti che da quando è fermo il termovalorizzatore di Acerra sono costretti a rimanere per ore in coda davanti al tritovagliatore di Caivano. I dipendenti protesseranno anche per le condizioni di lavoro degli addetti al sito di trasferenza dell'ex ICM dove devono selezionare manualmente il contenuto dei sacchetti dell'umido provenienti dalla raccolta differenziata stradale.